Ecco, il primo punto su cui vorrei riflettere con voi prima di vedere la filosofia è se Nietzsche era malato, era malato psichiatrico, diremmo noi oggi, allora anche la sua filosofia era malata? Ecco, io ti chiedo di riflettere su questa cosa, cioè se il filosofo era malato, non stava bene, quanto ha inciso questo sulla sua filosofia? Se vuoi scrivi qui sotto, rifletti un po', perché è importante riflettere su questi aspetti. Ecco, quanto ha inciso? Io ti dico quello che penso, penso che la filosofia di Nietzsche, e poi lo vedremo soprattutto con Gotti's thought, cioè che Dio è morto, nasce proprio dalla sua follia, ma è la follia dal quale passano molti uomini. Lui è riuscito attraverso la follia a tirare fuori una creatività, un'innovazione, perché è riuscito ad entrare nell'abisso dell'essere umano, per scorgere proprio le nostre debolezze, le nostre fatiche, i nostri punti di domanda, che sono, che senso ha la vita, ma Dio esiste. Sono tutte domande che ognuno di noi si pone, l'abbiamo visto anche con Pascal, nell'arco della vita, siamo esseri umani e ci rendiamo conto ogni tanto di essere miseri, di essere piccoli, di aver paura di morire, di aver paura di ammalarci, di non avere un senso nella vita. Ecco che quindi, secondo me, la filosofia di Nietzsche non era più di tanto malata, rappresentava un po' una strada risolutoria, una strada, non la strada, una strada risolutoria di tutte quelle fatiche, domande, preoccupazioni, angosce che tutti gli esseri umani vivono. Poi lui ha scelto la strada dell'uccisione di Dio, e lo vediamo, lui uccide Dio, e qualcun altro invece sceglie la strada contraria. Pascal l'abbiamo già visto, Sant'Agostino ha scelto una strada contraria, ecco che dall'abisso della condizione misera umana, Nietzsche ha scelto quella strada, però quello non vuol dire essere pazzi, quello non vuol dire che la filosofia di Nietzsche era malata, quello vuol dire che quella è stata una strada, non dico che sia giusto o sbagliata, una strada. Scrivimi quello che pensi qui sotto nei commenti.